Voglio fare complimenti a Milano, ha giocato una buona gara. Noi abbiamo cominciato abbastanza bene, ma nel secondo quarto abbiamo davvero giocato molto male, senza concentrazione. Se mi ricordo bene abbiamo perso 10 palla, contropiede di loro, tutto che abbiamo fatto in questo periodo molto male. Poi nel secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo lottato di più, ma era troppo tardi. E così. Abbiamo avuto anche problemi con due lunghi. Giorec, dopo di prima minuta andato fuori anche anche Vidmar. E così, Vilica è una che chiesa giocato 20 minuti. E' un tempo molto difficile, però abbiamo lottato prima fondo, però... E così. Abbiamo avuto Milano, perché giocato una buona. Grazie. Grazie.